Conviene investire nel mercato azionario oppure nelle criptovalute? In questo video andremo a vedere proprio questo, alcune delle differenze tra l'investire in azioni e di investire in cripto, così che ognuno possa farsi i suoi calcoli, i suoi ragionamenti e decidere che tipo di strategia di investimento utilizzare. Ciao ragazzi, io sono Aldo e ancora prima di partire con questo video, quello che vi chiedo è di mettere un bel mi piace al video e di iscrivervi al canale se già non l'avete fatto, perché in questo modo mi aiutate tantissimo con l'algoritmo di YouTube e in più mi fa molto piacere. Ma partiamo con il video. Ci sono coloro che investono solamente in cripto, che magari sono anche fanatici di Bitcoin, Ethereum e tutte le varie cripto e che guai non guardano neanche minimamente al mercato azionario, perché giustamente è crypto to the moon. Dall'altro lato ci sono quelli che guardano coloro che investono in cripto solamente come degli speculatori e preferiscono investire in maniera più tradizionale e stare con i piedi ben piantati a terra, che si tratti di azioni, ETF e obbligazioni. E guai a pensare anche solo di buttare due spicci in criptovalute. Ma penso che una cosa comuni entrambe queste due tipologie di pensiero estremista. Nessuna delle due fazioni sia informata particolarmente prima di porre il proprio giudizio. Chi investe solamente in azionario magari non sa neanche come funziona il mondo della blockchain, non sa come funziona il mondo delle cripto, mentre chi investe solamente in cripto magari non sa neanche leggere un bilancio, fare un'analisi fondamentale prima di investire in un'azienda. Bene, io personalmente investo principalmente nel mercato azionario, però nell'ultimo periodo devo dire che ho iniziato a informarmi anche sul mondo delle cripto. Bene, nel mondo dell'azionario ci sono dei metodi, chiamiamoli predittivi, che ci consentono di capire bene o male da che parte andrà il prezzo di un'azione. Se per esempio decido di investire in azioni value, io so che con un discounted cash flow model o DCF, io posso capire se un'azione di un'azienda X è sottovalutata sul mercato azionario e di conseguenza posso dire ok, io grazie a questi calcoli che ho fatto mi aspetto che in futuro le azioni di questa azienda ricominceranno a salire. Di conseguenza ci investo e se i miei calcoli saranno stati esatti ci farò un profitto. Oppure investo in un'azienda growth che ha un potenziale di crescita più alto, ovviamente anche un rischio più elevato, vado a calcolare il potenziale futuro di crescita, di fatturato, di profitto di quell'azienda, successivamente attendo di aprire una posizione quando si creerà un determinato margine di sicurezza e nel momento in cui quell'azienda dovesse effettivamente crescere potrei fare un bel ritorno sull'investimento. Però appunto come possiamo notare nel mondo dell'azionario i numeri fanno molto la differenza, quindi se io vado a farmi determinati calcoli, utilizzo determinati strumenti, non dico che è certo che effettivamente andrò ad avere un ritorno sull'investimento, ma ci sono delle ottime probabilità. Le criptovalute non hanno questi metodi predittivi, chiamiamoli così, che si possono utilizzare nel mercato azionario. Il mercato delle cripto è molto più speculativo e basato completamente sulla domanda e sull'offerta. Ciò significa che tutte le monete digitali sono basate in una certa misura su ciò che uno è disposto a pagarle. Tuttavia a causa della loro scarsità, molto interessante, sono soggette a dei potenziali guadagni molto molto più elevati rispetto alle azioni, quindi sicuramente investire in cripto è molto più rischioso, ma ripeto i potenziali profitti che un investitore in cripto può fare sono molto più elevati rispetto agli investimenti in azioni. Questo discorso è interessante, lo approfondiamo tra un attimo, però prima andiamo a vedere il discorso della regolamentazione. Infatti le azioni sono fortemente regolamentate, tant'è che la maggior parte di esse devono ricevere dei controlli annuali e senza passare questi controlli non potrebbero essere negoziate sul mercato. E proprio per via di tutti questi controlli che vengono effettuati viene meno il rischio di attività fraudolente. Poi in realtà ce ne sono anche sul mercato azionario, però ripeto viene meno. Le cripto invece in questo momento non sono regolamentate né dai governi né dalle banche centrali. E appunto una delle paure e dei rischi in cui incorre chi investe in criptovalute è proprio questa incertezza rispetto alle regolamentazioni future dei governi. E casi anche recenti come quello del governo indiano che ha deciso di bannare completamente bitcoin dall'India fanno giustamente anche preoccupare molti possessori della criptovaluta. Quindi questo delle regolamentazioni è sicuramente anche un argomento da tenere bene in considerazione. Io personalmente penso che si arriverà a un dunque che sarà positivo per gli investitori in cripto, per il semplice motivo che ormai sono davvero tanti possessori di criptovalute. Abbiamo anche visto recentemente grandi banche d'affari come JP Morgan, come BlackRock, che hanno addirittura deciso di permettere ai propri clienti di investire una parte del loro portafoglio in bitcoin. E quindi io penso alla fine che se anche ci dovessero essere delle regolamentazioni, non penso che andrebbero ad intaccare più di tanto i possessori di cripto. Ed un altro elemento a tenere bene in considerazione è la volatilità di queste diverse asset class. Gli investitori hanno prospettive diverse quando si tratta di investire. Ci sono coloro che sono pronti a prendersi dei rischi maggiori e prendere e acquistare dei titoli con maggior volatilità, mentre ci sono coloro che vogliono un portafoglio più stabile. In termini di stabilità non c'è assolutamente paragone. Le azioni sono molto più stabili rispetto alle criptovalute, che sono soggette a molta più volatilità. Poi in periodi come questi anche il mercato azionario è abbastanza volatile, però tendenzialmente le azioni, ripeto, sono molto più stabili. Quindi questo è da dire subito, chi non sopporta la volatilità non può assolutamente investire in cripto. Porniamo però un attimo ai ritorni sull'investimento, perché io credo che il fulcro del discorso sia proprio questo. Abbiamo visto negli ultimi anni che delle determinate criptovalute hanno avuto dei ritorni sull'investimento pazzeschi. E anche se andiamo a fare un paragone tra le aziende che hanno reso di più negli ultimi cinque anni, per esempio, rispetto alle cripto che hanno reso di più, possiamo vedere per esempio Tesla ha fatto un più 1223% negli ultimi cinque anni, o per esempio Amazon che ha fatto un più 431% negli ultimi cinque anni. Shopify forse è una delle azioni che ha avuto un rendimento più alto in assoluto, tra quelle più conosciute nell'ultimo periodo, come possiamo vedere, 3800% in solamente cinque anni. Però se andiamo a vedere invece i ritorni negli ultimi cinque anni di determinate cripto, come per esempio Bitcoin, possiamo vedere che solamente negli ultimi cinque anni ha fatto un più 13.000%, per non parlare del ritorno che ha avuto dal 2009-2010, quando è stata creata. Oppure per esempio Ethereum negli ultimi cinque anni ha avuto un ritorno sull'investimento del 16.300%, quindi come possiamo notare dei ritorni sull'investimento davvero pazzeschi. Ed in questo caso sono andato a prendere le due criptovalute più famose, ma se andiamo a scegliere anche altre criptovalute con una capitalizzazione di mercato più piccola, vedrete che i ritorni sull'investimento sono comunque esagerati. E quindi sì, sicuramente ci sono delle azioni che nel corso del tempo possono dare dei grandissimi ritorni sull'investimento che possono addirittura arricchirci. Però ovviamente i rendimenti di determinate cripto sono di un'altra categoria. In conclusione, io personalmente investo principalmente nel mercato azionario. Ultimamente ho iniziato, come dicevo, ad approcciarmi un po' al mondo delle cripto. Personalmente credo che tutti, e dico tutti, debbano investire nel mercato azionario. Non ha nessun senso lasciare i propri soldi fermi in banca a perdere di valore per via dell'inflazione. Se uno ha paura della volatilità del mercato azionario, può benissimo acquistare degli strumenti finanziari poco volatili come gli ETF. Chi invece ha più tempo a disposizione per fare ricerche e per studiare, può benissimo scegliersi delle azioni singole che potenzialmente possono dare dei rendimenti maggiori. E invece chi dovrebbe investire in criptovalute personalmente, credo che solamente chi è disposto a prendersi dei grandi rischi debba investire in cripto. Perché le ricompense possono essere davvero enormi, ma ripeto anche il rischio, la volatilità, il fatto che non siano regolamentate sono dei fattori da tenere bene in considerazione. Quindi in conclusione ragazzi, fatemi sapere sotto nei commenti quale tipologia di investimento preferite, se l'azionario oppure se le cripto. E spiegatemi magari anche i motivi per cui investite in un determinato tipo di asset class oppure nell'altro. Io come al solito spero che questo video vi sia piaciuto, per oggi è tutto, noi ci rivediamo nel prossimo. Grazie a tutti.